Al di là dell'entità dei fabbisogni di capitale, che risulteranno all'esercizio, che prende riferimento alla situazione in essere alla fine del 2013, va ricordato che importanti risultati sono stati già ottenuti nel corso di quest'anno, rafforzando le iniziative assunte negli anni precedenti. In Italia numerosi intermediari hanno operato in bilancio ingenti svalutazioni delle poste dell'attivo, per oltre 30 miliardi nel solo 2013, per quasi 130 dal 2008, accrescendo la trasparenza dei bilanci. Sono state realizzate operazioni di rafforzamento patrimoniale in Italia per quasi 40 miliardi, di cui oltre 10 nel corso 2014. Grazie a questi interventi le banche potranno far meglio fronte alle eventuali necessità di rafforzamento risultanti dell'esercizio.